In questo video vediamo come costruire una tabella che ci permette di effettuare in automatico la verifica di legge per le superfici finestrate. Ricordo che la normativa dice che negli ambienti principali delle abitazioni la superficie delle finestre per ogni singolo ambiente deve essere maggiore o uguale a un ottavo della superficie dell'ambiente stesso. Per poter effettuare in Archicad in modo automatico tutto questo tipo di verifiche utilizzeremo alcuni strumenti esistenti. Il primo strumento che utilizzeremo è lo strumento zona in modo che individueremo ogni singolo ambiente come una zona. Archicad delle zone ci permette di estraporare in automatico tutta una serie di dati. Quelli che interessano a noi sono la superficie dell'ambiente, della zona e la superficie delle finestre che ricadono nella zona. Chiaramente Archicad è in grado di estraporare anche tantissimi altri dati, il volume e quant'altro. Oltre questo strumento poi dopo utilizzeremo lo strumento Abaco. lo strumento Abaco o Abachi ci permetterà appunto di costruire di fatto una tabella inserendo tutti questi parametri presi dalla zona e anche dei parametri nuovi che andremo a costruire noi con delle nuove proprietà perché non esistenti di default. Allora vediamo come procedere. Allora la prima cosa appunto che dobbiamo fare è quella di costruire un Abaco. Quindi andiamo nello strumento Abachi, elementi perché il nostro sarà un Abaco che riguarda l'elemento zona, tasto destro sopra elementi, nuovo Abaco. Allora gli dobbiamo dare un identificativo per distinguerlo dagli altri. Allora tutto quello che noi in questo momento troviamo, io sto utilizzando il template base pulito di Archicad 26 che tutti quindi hanno senza nessuna personalizzazione. Per cui gli Abachi che trovo qui sono quelli standard. Chiaramente se uno utilizza un template differente può trovare degli altri Abachi. Adesso poi una volta che noi questo Abaco l'avremo realizzato lo possiamo poi tranquillamente salvare il nostro template personale. Allora diamo un identificativo, io per adesso scrivo AF-01 per dire appunto che riguarda le finestre le aree finestre, gli diamo un nome, tabella verifica superfici finestre oppure possiamo scrivere quello che vogliamo. E l'abbiamo creato. A questo punto dobbiamo impostare il nostro Abaco. Allora la prima cosa gli dobbiamo dire quale è il primo criterio. Quindi andremo a fare questa verifica su quali elementi, sulle zone. Ok? Il tipo elemento che andremo ad analizzare è la zona. Sotto andremo ad aggiungere dei campi, cioè aggiungeremo quello che noi vogliamo che venga estrapolato in automatico dalla nostra zona. Quindi andiamo ad aggiungere il campo. Il primo campo che metteremo è il nome della zona. Ok? Perché chiaramente quando metteremo il timbro che ne so nel soggiorno, nella tabella, nella prima colonna ci sarà scritto soggiorno. L'altro campo utile da mettere è il nome del piano, quindi del piano ospite. Anche qui, chiaramente, se noi abbiamo un edificio che è sviluppato su due piani, con un'abitazione su due piani, avremo, che ne so, degli ambienti che saranno sul piano prima, altri sul piano secondo, quindi è bene indicare questo. Dopodiché andremo a mettere l'area del nostro ambiente. Il parametro che andremo a prendere si chiama area misurata netta. Aggiungi campo. Area misurata netta. Eccolo qua. Aggiungeremo poi un'ulteriore colonna, quindi un ulteriore campo. E lo chiameremo che prenderemo l'area della superficie delle finestre. Eccolo qua. Quindi abbiamo costruito una prima parte del nostro abaco, con quattro colonne, nome dell'ambiente, piano dell'ambiente, area dell'ambiente e area delle finestre che insistono su quell'ambiente. Clicchiamo su ok. E vediamo che è stato creato il nostro abaco. Adesso lo ridimensioniamo nella vista alla colonna, lo adattiamo alla colonna, lo adattiamo alla riga. Lo mettiamo vista 100 adattato alla finestra e abbiamo questa tabella già impostata. Chiaramente non c'è ancora nulla perché non abbiamo creato delle zone. Adesso questa tabella che è la prima parte, la dovremo andare a completare con ulteriori due colonne. Di cui su una colonna metteremo l'area della superficie minima delle finestre, prevista dalla normativa, che deve essere pari a un ottavo dell'area dell'ambiente, quindi un ottavo dell'area misurata netta. Questa è la quinta colonna che andremo a mettere. La sesta sarà una colonna di verifica, quindi ci sarà un segno di spunta se l'area delle nostre finestre è maggiore o uguale all'area minima prevista dalla normativa. Adesso questi due parametri non sono parametri esistenze, quindi li dovremo andare a costruire noi come nuove proprietà. Quindi andiamo sul gestore delle proprietà, eccolo qui, e andremo a realizzare queste due nuove proprietà, che sono l'area minima delle finestre e un parametro di verifica tra il minimo e quello che noi avremo nel nostro progetto. Allora conviene per ordine creare un nuovo gruppo, quindi clicchiamo sul nuovo gruppo e gli diamo un nome, che adesso lo possiamo chiamare finestre, magari tra parentesi scrivere verifica per far capire che sono parametri che servono per la verifica, non per altre operazioni sulle finestre. Ci viene aggiunto alla fine e adesso andiamo a creare una nuova proprietà. Allora la prima proprietà la chiameremo area superfici finestre minima, ok? Nel gruppo finestre e la andiamo a costruire. Adesso qui c'è una descrizione per cui mettiamo una descrizione che ci permetta di ricordare in un futuro a che cosa serve questo parametro, quindi possiamo scrivere un ottavo dell'area utile. Ora, vediamo come definire il valore. Allora, il tipo di dato chiaramente sarà un'area e quest'area sarà definita con un'espressione. L'espressione sarà semplicemente area della superficie utile diviso 8. Quindi andiamo sui parametri di proprietà e andiamo a prendere il parametro area misurata netta. Area misurata netta. Benissimo. Sceglieremo un operatore, quindi nel tasto funzione operatore dividi per 8, semplicemente così. Quindi diremo che questa nuova proprietà area superficie finestre minima sarà pari a un ottavo dell'area utile misurata netta. Benissimo. Adesso però per rendere questa proprietà utilizzabile dobbiamo andarla a renderla disponibile per le classificazioni qui sotto. Attualmente non è disponibile per nessuna classificazione, quindi de fatto non è utilizzabile. Allora, conviene, potremo anche mettere, che ne so, disponibile per tutte le classificazioni, avremo così risolto in modo sommario il problema, ma non in modo preciso. Lo andiamo a farlo in modo un pochino più puntuale, quindi clicchiamo su personale e su edita andiamo a dire che sarà disponibile per le classificazioni dello spazio. Quindi spazio, spazio esterno e spazio interno, visto che è una zona. Chiaramente mettiamo tutti i tipi di spazio perché poi non sapremo questa proprietà che stiamo creando per quale tipo di spazio può essere utilizzata. Quindi li mettiamo tutti e risolviamo così il problema. Benissimo. E questo l'abbiamo completato. Quindi abbiamo creato, abbiamo adesso disponibile per le classificazioni dello spazio e l'abbiamo definito il valore come un'espressione che è pari all'area misurata netta diviso 8. Clicchiamo su ok e questa nuova proprietà è stata creata. La possiamo già aggiungere, quindi andiamo su impostazione schema, aggiungiamo campo e l'avevamo chiamato area superfici finestre minima, eccola qua. E l'abbiamo aggiunta. Clicchiamo su ok, adattiamo la nostra tabella e vedremo che avremo questa nuova colonna disponibile. Adesso andiamo a creare un'altra proprietà che ci permetta di fare la verifica, cioè di se l'area della superficie delle finestre è maggiore o uguale all'area superficie finestre minima, metterà un segno di spunta. Allora andiamo nuovamente sul gestore delle proprietà e andiamo a creare una nuova proprietà. La chiameremo verifica, che ne so, area finestre, possiamo chiamare come vogliamo. Ok, e diciamo che questa verifica dell'area finestre verifica se l'area delle finestre è maggiore o uguale all'area minima delle finestre, come il nostro promemoria. Allora, tipo di dato. Questo qui sarà un dato vero-falso. Cioè che cosa significa? è che se si verifica quello che mettiamo dopo, verrà scritto vero oppure il segno di spunta a secondo di quale strumento utilizziamo. Quindi però anche qui dovremo fare un'espressione e dire che se l'area superficie finestre area superficie delle finestre è prendiamo l'operatore delle funzioni maggiore o uguale a l'altro parametro che era area minima area superficie finestre minime ok quindi ricontrolliamo da aver fatto bene quindi abbiamo scritto questa nuova proprietà si chiama verifica area finestre e restituirà la parola vero o il segno di spunta se l'area superficie delle finestre è maggiore o uguale all'area delle superficie finestre minime che era l'espressione la proprietà che avevamo creato prima e quindi questo va bene andiamo anche qui a renderla disponibile per le classificazioni allora in questo caso facciamo la stessa operazione di prima oppure in modo molto più rapido possiamo utilizzare questo strumento qui trasferisci quindi andare sulla proprietà creata precedentemente prelevare questi parametri andare sulla nuova e andarli a inserire in questo modo rapidamente abbiamo dato le stesse classificazioni e questi due nuove proprietà e clicchiamo su ok aggiungiamo adesso anche qui una colonna di verifica quindi aggiungi campo verifica area finestre eccolo qua ok lo andiamo a rendere adattato alla nostra visualizzazione e la nostra tabella è completa a questo punto possiamo fare una verifica a vedere se effettivamente questo funziona magari andiamo al nostro piano terra e andiamo a inserire una zona quindi prendiamo lo strumento timbro zona che ne so il nome della zona lo andiamo a cambiare il resto non lo facciamo in questo frangente perché non interessa che ne so andiamo a mettere che ne so soggiorno ok inseriamo la nostra zona la nostra zona è stata inserita in questo caso non compare il timbro della zona perché sicuramente non è attivo nell'opzione vista modello andiamo a vedere opzioni vista modello infatti eccolo qua noi stiamo utilizzando l'opzione vista modello 03 piante costruzioni dove il timbro di zona non è disponibile mettiamo il segno di spunta clicchiamo su ok e il nostro timbro di zona è disponibile andiamo a vedere la nostra tabella ecco qua e la tabella è stata correttamente compilata nel senso che abbiamo nome zona soggiorno abbiamo il piano piano terra l'area dell'ambiente l'area delle finestre l'area minima e il segno di spunta perché questa è verificata in quanto l'area delle superfici 11 e 22 delle finestre è maggiore di 5 e 42 che è l'area minima magari per ulteriore verifica scegliamo un'altra zona che ne so nel piano primo quindi strumento di zona andiamo qui che ne so chiamiamolo in questo caso letto camera da letto ok andiamo a mettere il timbro di zona ritorniamo nella nostra tabella e ecco qui e questa è compilata nel senso che avremo in questo caso la camera da letto che sta nel piano primo con tutte le misure e la verifica allora chiaramente come tutti gli hub possiamo poi anche personalizzare la formattazione quindi magari qui che ne so possiamo adesso scrivere ambiente qui possiamo scrivere semplicemente piano tanto si capisce qui possiamo mettere area ambiente area finestre siamo un po' semplificare qui possiamo scrivere area finestre minima e sull'ultima magari scrivere semplicemente verifica perché tanto si capisce di che cosa stiamo parlando e così qui possiamo modificare anche l'intestazione il titolo della nostra tabella e cambiare i caratteri le formattazioni e quant'altro e in modo da avere questa tabella pronta chiaramente se questa tabella che abbiamo appena creato la salviamo nel nostro template personale l'avremo a disposizione sempre per cui basterà semplicemente una volta inserite le varie zone andare su questo sugli abaco e trovare la tabella già pronta ecco quindi conviene questo salvarlo ricordo che per salvarlo una volta realizzata questa tabella conviene salvare il file con un nome differente cancellare tutto quello che è stato disegnato quindi praticamente riportare il file all'origine quindi con nessun elemento disegnato un file vuoto e salvarlo come template grazie per l'attenzione